Tornati a tutti dal vostro LuigiFri85, sono a cena con papà a ristorante pezzeria La Perla di Bologna, guardate che piatto che mi hanno dato, guardate che piatto per mio padre, saluta il mio canale, guardate che piatto di tagliatelle con ragù, mentre io ovviamente mi sono preso questo, strigoli con cunchi e radicchio, come suol dire benvenuti di nuovo a mangiare con me, buon appetito, io mangio anche troppo qua, intanto non sono l'unico che fa questo video qua, però ragazzi quanta roba, quanta roba ragazzi, bello anche il piatto che sembra legno quasi, ma invece non è legno, una cosa che brucia ancora l'ira di Dio, non è mica roba, mangio un po' di sale, faccio un po' di parmesano, un po' di sale specchio, non so niente, non voglio ancora sbagliare, ho sentato su uno, inserita. di tutto il parmigiano, salato al parmigiano, ah no, una buona, 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 bella, bella. bravo di trovare questa pasta qua che mi piace un casino gli strigoli non so come distratta prete però non è stato adesso quelli girati gli strigoli sono proprio questi una pasta stra tirata poi la servita al dente quindi veramente buona gran bei pezzi di fungo guardate che voglia molto buoni anche molto delicato il fungo molto delicato molto buono molto buono mi piace mi piace come va il tuo tagliatello mangiù io me lo gusto fai te io vado piano c'ho freddo soprattutto non ho freddo di tornare a casa oggi a 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